Musica Amici sportivi buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio Benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo Solito filo diretto In questo periodo non ci sono chiaramente interviste Aspettiamo la conferenza stampa di Benitez Aspettiamo ovviamente ufficializzazioni di mercato del Napoli Per guardarci anche qualche video dei nuovi acquisti del Napoli Però per il momento invece ci facciamo queste lunghe chiacchierate con i nostri tifosi Vediamo chi è il primo in linea Pronto, buonasera Io sono Pino Tapestum Ciao Paolo Del Genio Ciao, buonasera a te Allora, la tua voce per telefono mi viene prima che andare al televisore Televisore illuminiamola Ecco lì Ho levato proprio la voce dal televisore Perfetto Senti, io vorrei un po' smentire quello che dice la televisione Insomma, la vogliamo finire che la Juventus è la squadra più amata all'estero Guardi, io che basti con l'estero Ti posso assicurare che la Juventus è quasi una squadra sconosciuta Forse pure il Milan, ma quello lo fanno perché il presidente, la gente ride del presidente Ma a Juventus però mi è sconosciuta Vediamo un po' come succede, come negli altri paesi Vediamo, in Argentina lo sappiamo per chi vota e non lo sappiamo perché In Olanda l'unico club che ci sta di una squadra estera è il club Napoli-Olanda Non ce ne sono altri Sì, siamo stati in Olanda recentemente, erano presenti Esiste solo il club Napoli-Olanda Altri club non esistono Perfino a Cuba, dopo il Bercellona e il Real Madrid C'è solo il Napoli Poi ti posso citare anche altri paesi dove il Napoli è più conosciuto No guarda, io ti chiederai una cortesia Se questi continuano a dire che la Juventus è la squadra più amata all'estero No, io ti chiederei Ma all'estero non è così No, io ti chiederei una cortesia Sì, però Addirittura Se hai informazioni precise Sì Su questi club A me farebbe piacere anche contattarli per invitarli poi Senz'altro Quindi se hai informazioni precise Non so se siamo amici su Facebook Guarda, guarda Basta chiamare Basta chiamare In Denag Beh, adesso non mi viene È un ingegnere che lavora lì a Denag Che c'è il club Napoli-Olanda No, ma vari, vari Dicevo Se tu hai contatti Comunque se hai contatti Informami Se hai contatti con questi club Napoli Fammelo sapere attraverso internet, Facebook Se non so se ci sei Vabbè, d'accordo Ti ringrazio molto Come ho tutti i dati li faccio sapere Però la vogliamo finire Che sta a Juventus È la squadra più amata all'estero No, per questo Io sono convinto di quello che tu dici All'estero sicuramente no Io sono convinto di quello che tu dici Però se facciamo un bel Resoconto preciso Lo andiamo a scrivere Lo mostriamo In modo che siamo tutti Più contenti di poter affermare Io sono convinto di quello che tu dici Però affermiamolo Andando proprio a illustrare Quanti club Napoli ci sono in giro per il mondo Appena avrò i dati precisi Te li trasmetterò Gentilissimo Ti ringrazio Grazie Paolo Del Genio Ti saluto Grazie a te Grazie a te Veramente Una cosa a cui tengo molto Anche perché ieri sera per esempio C'è stato un amico che si è collegato Insomma non faceva parte di un club Napoli Credo però si è collegato da Washington E mi scrivono spesso da Siviglia E mi scrivono dagli Stati Uniti Dall'Europa Tantissimi Quindi veramente La notizia Insomma che c'è questa possibilità Poi di interagire Di poter seguire le trasmissioni Attraverso il sito di Canale 8 Attraverso Facebook E gira ovviamente Però gira molto più facilmente Nella nostra regione E in Italia All'estero facciamo un po' più fatica A divulgarla E quindi dobbiamo cercare davvero tutti Di organizzarci Per fornire più contenuti possibili Delle nostre trasmissioni Con i tanti amici Che stando all'estero Tifosi del Napoli Che sono veramente Un numero incredibile Che hanno tanta voglia Di sapere cose sul Napoli Anche di vedere Trasmissioni sul Napoli Di poter scrivere Su internet La loro opinione sul Napoli Perché anche stando lontanissimi Lo seguono con un'attenzione Davvero notevole Vediamo chi c'è in linea Pronto? Buonasera Pronto? Sento nessuno Paolo? Eccoti qua Pronto? Sì Ciao, sono Davide Sempre da Salerno Senti Paolo Volevo sapere da te Che cosa ne pensi Di questa Ovviamente questa notizia Che si sta sentendo Purtroppo Non lo so Ora dovrei andare proprio Con la fantasia Non so a quale notizia Ti riferivi Forse a quella di Cavani Però Non lo so Vediamo Non posso risponderti Perché purtroppo È caduta la linea Speriamo che riesci a riprenderla Per farmi sapere Per farmi sapere a chi ti riferivi A quale notizia ti riferivi Vediamo chi c'è in linea Pronto? Buonasera Pronto? Sì, buonasera Ti sento lontano Sì, sei in diretta Ma ti sento lontanissimo Io ti sento lontanissimo Tu stai ascoltando La mia voce Attraverso il televisore Ti sento Ti sento Allora È una trattativa di mercato Possibile Ovviamente Perché è un calciatore Che sicuramente piace Poi potrebbe avere Le caratteristiche giuste Perché se resta Cavani O se arriva Geco Facciamo un esempio Cioè Chiaramente ci sarà Un centravanti titolare E secondo me Servirà un centravanti Alternativo Molto forte Come immobile Ma anche Diciamo un giocatore giovane Che a parte che può giocare Anche insieme A Cavani Secondo me Perché può anche fare Uno dei tre Dietro la prima punta Perché è un giocatore Che combatte Lotta su tutti i palloni Però diciamo Come prima punta Alternativa Per quanto io Sarei anche dell'idea Di avere due grandi Centravanti Insomma Se uno è già grande E l'altro è Molto promettente Pure va bene Quindi Diciamo come profilo È un profilo Secondo me giusto Ideale Per il Napoli La prossima stagione Per quanto riguarda L'operazione di mercato È un giocatore Che è a metà Fra Genova e Juventus Quindi bisogna Aspettare un po' Di giorni Per vedere Dove è possibile Andare a prendere Il calciatore Perché insomma A Genova è difficile Che resti Perché deve fare Un salto in avanti È un giocatore Molto promettente A Napoli Lui ci verrebbe di corso Perché è napoletano Tifoso del Napoli Amico di Insigne Figuriamoci La Juventus La Juventus è la squadra Che l'ha cresciuto Però forse In questo momento No Anzi senza forse In questo momento Non c'è spazio per lui Però la Juventus In tante trattative Si muove Attraverso Il passaggio Non avendo Una straordinaria Disponibilità economica Bisogna dire Però la Juventus Ha tanti giocatori Nella sua orbita Bravi Anche immobili Anche gabbiadini Degli attaccanti Che potrebbero far comodo A qualche club E quindi potrebbe essere Utilizzato come contropartita tecnica Ecco perché Non è facilissimo Prendere questo giocatore Però Credo che È un giocatore Che piaccia E sia una possibilità Di mercato Vediamo chi c'è in linea Credo che Ha un giocatore Che piaccia Sia una possibilità Di mercato Chi c'è in linea Pronto Sì Sei in diretta Grazie Prego Pronto Ecco di qua Vai Pronto Buonasera Il tuo nome Mi chiamo Francesco È successo Il miracolo Per la seconda volta Che sono riuscito A contattarti Mi fa piacere Volevo chiederti Una cosa Io Nel pomeriggio Mi sono collegato Sul canale 61 Dove ci sta Vedo un lago Di altri giornalisti Non ho capito Chi c'era Pedullà E altri giornalisti Adesso Non li ricordo Vi sentivo dire Che la Juventus Milan Inter Erano le società Che potevano spendere Di più Sul mercato Juventus Milan Ed Inter Non lo so Io non l'ho sentita Non l'ho ascoltata Questa trasmissione Eh Vabbè Comunque Com'è possibile Si può affermare Questo Quando noi sappiamo Che attualmente L'unica squadra Che realmente Può spendere E il Napoli È possibile Che si continui A parlare Sempre di queste Non lo so Io dico Io dico una cosa Ora non entro nel merito Di questa trasmissione Che non ho seguito Per carità Ti credo perfettamente Però dico una cosa Che noi abbiamo Un obbligo Quando andiamo in televisione Io ieri facevo polemica Col collega Della Gazzetta Che ha scritto Zunica Berami Non possono giocare Del 4-2-3-1 A parte il fatto Che io ho smontato Questa teoria Dicendo che sono giocatori Che hanno giocato Tanto e bene Nel 4-2-3-1 Con le loro nazionali Con le loro squadre di club Con il Napoli Nei secondi tempi Quest'anno Molte volte Quindi Si fa Anche questa qui Diciamo ora Parlando da una cosa tecnica A una cosa di mercato Si può dire Le tre squadre Che possono spendere di più Sono queste tre squadre Non si può Poi Passare la linea Ad un altro O non si può Poi Tranciare secco L'argomento Questo è un errore Che noi che facciamo Informazione Non dobbiamo commettere Allora I colleghi Che hanno affermato Questo Devono poi Con il dono Della sintesi Che deve ovviamente Poi in certo tipo Di trasmissioni Dove c'è dibattito In un minuto Devono essere bravi A spiegare Conti alla mano Facendo una piccola proiezione Perché queste tre squadre Possono spendere Come il loro bilancio È in questo momento E perché gli permette Di spendere Devono anche spiegare Perché altre squadre Come il Napoli O altri Che competono Con queste Per le zone Alta classifica Possono spendere di meno Se ce lo spiegano Ci forniscono Poi gli elementi Per andare In contro Per smentire Per sostenere altro Se non ce lo spiegano La loro affermazione È come se non fosse Stata fatta Per me Quando uno fa Un'affermazione Senza spiegare Perché l'ha fatta Io non vorrei Nemmeno entrare Nel merito del dibattito Cioè di cosa parliamo Che loro hanno fatto Questa affermazione Su quali basi L'hanno fatta Ma ti spiego subito La base sulla quale Loro Si riferivano Era il fatto Che loro Praticamente Annualmente Erano le squadre Che avevano Mi sfugge il termine Cioè Erano squadre Che paghavano più soldi Da televisione Loro si riferivano A questo Vabbè Questo c'entra A un certo punto Perché Poi qui Il discorso Diventa talmente Complicato Che bisogna vedere Per rientrare Nel prefinanziario Queste sono società In Italia Le uniche due società Che hanno chiuso Senza debiti Sono il Napoli E l'Udinese Quindi Queste sono società Che devono coprire Delle situazioni debitori Noi stiamo vedendo Invece di fare chiacchiere Noi stiamo vedendo Che la Juventus Che in Italia è forte Però in Europa Ha avuto le sue difficoltà Vuole prendere Dei grandi attaccanti Vorrebbe prendere Iguain e Iovetic Il loro desiderio Sarebbe questo E come li vagano Non sanno nemmeno Se riescono a prendere Uno dei due Stanno facendo Una fatica bestiale Per prendere uno dei due E stiamo parlando Di 20 e di 30 milioni Mentre Come vediamo Dall'estero C'è qualcuno Che ne offre 50 Ne offre 60 Cioè ci sono Tutti altri parametri Ora Il Napoli Non è Il Manchester City O il Real Madrid O il Paris Saint Germain Che ne può spendere 60 Per un solo giocatore Però il Napoli In questo momento È sicuramente Più della Juve Del Milan Dell'Inter Della Roma In grado Se lo decide Di mettere sul piatto 25 milioni Per un solo calciatore Cosa che le altre squadre Non possono fare Ok Poi il Napoli Può darsi che non lo farà Però può farlo Il bilancio I conti del Napoli Dicono che il Napoli Può farlo Sarebbe bello Se De Laurentiis Si decidesse a farlo De Laurentiis Si era dichiarato Sta cosa Che non so Allora Questa qui Di La Mela E Marchinhos Per me È una dichiarazione Che cancella Dalle possibili Ipotesi di mercato Del Napoli Sia l'argentino Che il brasiliano La Mela La Mela e Marchinhos Non verranno a Napoli Perché questa offerta Fatta Non significa che oramai Si potrà riaprire E chiudere Con questi due calciatori Della Roma Detto questo A me non interessa Che i nomi Quella notizia Secondo me Bisognava leggerla In un altro De Laurentiis A volte lancia Dei messaggi Quella notizia Va letta In un altro modo Va letta Non è che io Necessariamente Voglio la Mela E Marchinhos Ha usato questi due nomi Può darsi pure Che ha fatto la proposta Io questo non lo so Però la cosa importante Di quella notizia E io Aurelio De Laurentiis Cancelliamo i nomi Ho offerto 40 milioni Per due giocatori Questa è la notizia importante Quindi il Napoli 40 milioni È pronto a metterli Adesso Se ti hanno detto No Per la Mela e Marchinhos Diamo per buona Tutta la frase Ti hanno detto No per la Mela e Marchinhos Mi va benissimo Quei 40 milioni Andranno su Su altri due giocatori Quindi già Parliamo di Una E questo stiamo parlando Senza la cessione di Camani In poche parole Mi sa che sia stato Leggendo bene quella notizia Sia stato comunicato Quasi interamente Il budget del Napoli 40 Barra 50 milioni Perché poi non è che ti fermavi Alla Mela e Marchinhos È certo 40-50 milioni Se non va via Camani Che quindi diventano 100 Se va via Camani Questo credo che Su questo Noi possiamo fare Una proiezione interessante Non sui nomi Ma sulla cifra Che il Napoli presenta Sul mercato Ti ringrazio Va bene Ti ringrazio molto Ciao Grazie Poi io credo Che qui Ora De Laurenti Si sta divertendo E fa bene Perché poi il calcio Alla fine Nulla di drammatico Sì è una cosa molto seria Ma non è drammatica Quindi divertiamoci Ogni tanto col calcio Io dico poi Quando ci sono le partite Che sono la cosa più seria Che c'è nel calcio Allora tutti abbiamo Tensione Ansia Perché vogliamo che il Napoli Vinca Siamo tutti tifosi Quando non ci sono le partite In questo momento Non ci sono le partite Il calcio diventa un divertimento Il calcio mercato Diventa un super divertimento Perché Chi prende il calcio mercato Seriamente Cade nel ridicolo L'ho detto già Si fanno 300 nomi In 90 giorni E poi si pigliano 5 giocatori Una squadra Quindi pensate un po' Quanti nomi Sono veramente buttati al vento Quindi E diventa un gioco Partecipiamo tutti a questo gioco Divertiamoci a questo gioco Lo facciamo noi Lo può fare anche De Laurenti De Laurenti Partecipa a questo gioco Di giocare anche lui Un po' con i nomi Con le cifre Però Alla fine Quello che conta È che Il Napoli Non si tirerà indietro Di fronte alla possibilità Di prendere giocatori buoni Perché ha la possibilità Di investire E questo dobbiamo Saper leggere noi Nei vari tweet Che farà il presidente Noi dobbiamo Incominciare a leggere Tra le righe Di questi tweet Perché molte volte Sono delle provocazioni Vorrei andare oltre Sono degli sfottò Anche alla nostra categoria E stiamo al gioco Giochiamo Quando arrivò Il famoso L'allenatore Inizia con la M E il secondo cognome Di Benitez Iniziava con la M Io scoprì questa cosa E scherzando Scrissi Proprio questo Scrissi Presidente Se vogliamo giocare Giochiamo L'allenatore È Benitez Perché Benitez C'è il cognome Che inizia anche con la M Dopo Benitez L'altro cognome Quindi se si deve giocare Io penso che a questo gioco Noi ci dobbiamo stare È inutile che ogni notizia Dell'Aurentis Noi la drammatizziamo Ha voluto dire Poi non farà I fatti Quando ci saranno Cioè Le ufficializzazioni Li commenteremo Quando sono questi tweet Così Tra il simpatico Il provocatorio Lo sfroccolatorio Come devo dire Noi andiamoli a prendere Per quelli che sono E giochiamoci su Mi sembra che questo Si possa fare Vediamo chi c'è in linea Pronto? Buonasera Pronto Paolo? Sì Sono Emiliano da Benevento Ciao Buonasera a te Senti Paolo Volevo chiederti una cosa Non vorrei che La campagna Acquisti del Napoli Si trasformasse in un Vorrei ma non posso Con una dichiarazione Sulla Mela e Marchinius Le dichiarazioni Degli altri nomi Fatti altra volta Ho capito Vorrei ma non posso Sì hai ragione Però vorrei ma non posso Mi può anche stare bene Sul nome Però non significa Che se non posso Poi quei soldi Me li guardo Quei soldi Li investo Su qualche altro Che posso Questo credo Che sia la chiave Di tutto Perché poi non è Che il calcio mondiale Finisce alla Mela e Marchinius Dove tu dici Io volevo prendere La Mela e Marchinius Una volta dichiarati Incedibili La Mela e Marchinius Mi tengo Con tutto il rispetto E il Caduri E il Fernandez No Non è così Che funziona Tra il Caduri E il Fernandez E la Mela e Marchinius A 30 milioni Ci saranno altri due giocatori Molto bravi Per coprire quei ruoli Siamo partiti però Anche da Ranides Addirittura L'assurdo Vabbè Non ci ho mai chieduto Tipo Rob Per arrivare Però poi A Biabbiani Ma guarda Biabbiani Non è Garrincia Visto che il ruolo È quello Chi ha qualche anno In più Ricorderà Garrincia Che ha la destra Fenomenale Però è un giocatore Secondo me Se viene Adatto A dare una mano Nel modulo di Benitez Come esterno Veloce In grado di fare qualche gol Non è un fenomeno Ma è un buon giocatore Qui non dobbiamo avere Necessariamente Una rosa Formata da tutti I fenomeni Ma quando sono Buoni giocatori Che possono dare una mano Io dico Nei trequartisti Abbiamo talento Con Pandev Con Insigne Con Amsic Se giocherà In quel ruolo Un altro arriverà Se arriva anche Biabbiani Che ha velocità E altre doti Secondo me Arricchiamo la rosa Poi dopo Non è che Se arriva Biabbiani Dobbiamo scendere in strada A fare la festa Però nemmeno dire Che ce ne dobbiamo fare Di Biabbiani Perché può essere Un giocatore utile Un'ultima domanda Che ne pensi Sul fatto che De Laurentiis Possa acquistare Una squadra In Inghilterra E addirittura Si parla proprio Del futuro Brasile Se è una cosa buona Per noi Oppure Sta pensando all'altro Grazie Per una ragione Che internazionalizza Più ravvicinato La possibilità di giocare In un campionato Che per certi versi Somiglia di più Perché il campionato Brasileano Non somiglia per nulla A quello italiano Quindi Nudle Che ora noi Diciamo Vargas Sta giocando bene o male Quello che si fa in Brasile Non conta nulla Bisogna dimostrare In Europa Io non dico in Italia Perché è troppo restrittivo Però la differenza Europa-Sud-America La faccio Quella là Campionato europeo Campionato europeo Non la faccio tanto Almeno tra i 4-5 Campionati più forti Però Europa-Sud-America Si Quindi un Vargas Tu lo mandavi a giocare Nel Crystal Palace Vedevi cosa incominciava a fare In Inghilterra Lo vedevi giocare Per fare un esempio Qualche volta Ti andavi a vedere Il tuo Vargas Che giocava Contro il Manchester United Contro il Manchester City Contro l'Arsenal Contro il Chelsea Se giocava bene queste partite Dicevi Lo riprendo L'anno prossimo In Champions Tengo quello che già Ha messo in difficoltà La difesa del Manchester United Non so se ho reso l'idea Quindi io l'accoglierei Positivamente Un'idea del genere Vediamo chi c'è lì Pronto buonasera Ciao Paolo Buonasera Sono Salvatore Da Foriglotta Ciao buonasera a te Ti volevo dire Secondo te Che ne pensi Di Di Ambanir Perché Di Di Ambanir Giocatore Parma Già no Già l'ho detto Un minuto fa Secondo me Un buon giocatore Che può dare una mano Non è un fenomeno Un giocatore Che potrebbe essere utile Nel modulo di Benitez Secondo me Con la permanenza Di Cavani Gli acquisti Di Astori Mascherano E Guaina Fanno sì Che il Napoli Possa fare Il salto di qualità Cosa ne pensi Buonasera Ti ringrazio Astori Sì Un buon difensore Sicuramente Mascherano La vedo quasi impossibile Perché comunque Poi nel Barcellona Ha un ruolo importante Guadagna una cifra Notevolissima Non vedo perché Con tutto l'affetto E la stima Che c'è fra lui E Benitez Mascherano Deba lasciare Uno dei due Tre Se non il migliore Ancora Forse non è più il migliore Il Bayern ha fatto il sorpasso Ma siamo lì Comunque ha vinto il campionato Con 100 punti Il Barcellona Non è che Quest'anno poi sia stata Così disastrosa Come qualcuno la vuole dipingere La stagione del Barcellona Quindi non vedo il motivo Per cui Mascherano Possa lasciare il Barcellona Iguain invece è un giocatore Che lascia il Real Madrid È un giocatore forte È anche un giocatore Ancora giovane Mi sembra che addirittura Sia più giovane Di Cavani Dovesse andare via Cavani Dzeko e Iguain Sarebbero i miei preferiti Sicuramente Per la sua sostituzione E sarebbe anche Sfizioso Poi sottrarre Iguain Alla Juventus Che tanto ci sta pensando Ma non ha la forza Per arrivarci Se il Napoli Riuscisse con un colpo D'ala Ad arrivarci A chiudere Sarebbe davvero un buon colpo Però Tu mi dicevi Con Cavani Iguain Non la vedo possibile Che Iguain viene E qui Dopo tanta panchina Che ha dovuto fare a Madrid Viene per giocare Quindi non credo Che poi si arriva in Italia Per quanto poi È buono avere due grandi attaccanti Con il modulo 4-2-3-1 Cavani le gioca quasi tutte Iguain si sentirebbe un po' Messo in discussione Come titolare Quindi la vedrei difficile Come operazione di mercato Abbiamo la telefonata Pronto? Ciao Paolo Sono Luca Allora Ci sentiamo Tra due minuti e mezzo Dopo la pubblicità Perché altrimenti Non avresti nemmeno La possibilità Di iniziare il tuo intervento Resta in linea con noi Noi ci fermiamo E torniamo tra pochissimo Grazie Eccoci qui Subito Di nuovo in diretta Con i nostri telespettatori Ciao Ciao Paolo Sono Luca Buonasera Ti volevo chiedere Praticamente Questo fatto Se c'è la possibilità Di fare lo stadio a Napoli Io ho sentito Di fare una caserta Ma a me non sembra appropriata Come se Se io farei un bello stadio a Napoli Con una struttura No lo stadio a Napoli Se si fa a Napoli Dove sta il San Paolo Si fa il San Paolo nuovo Diciamo Non è Che si trova Un'altra location Quindi Si fa il San Paolo E De Laurentiis Mi disse Proprio rispondendo Io credo che sia questo Il progetto Non dico che è l'unico Ma credo che sia questo Il progetto Al quale punta De Laurentiis Detto questo Evidentemente Ci avviciniamo Con qualche motivo Di preoccupazione Alla scadenza Del 30 giugno Per avere la licenza UEFA E per avere Lo chiede La possibilità Di gestire il San Paolo E di fare Il nuovo San Paolo Evidentemente De Laurentiis Avrà Gli investitori giusti Che gli possono dare Una mano Per costruire Un nuovo stadio Dice Se non mi fate fare Quello che voglio fare Al San Paolo Secondo me Provocatoriamente Dice Me ne vado A Caserta Perché sa Che questo Può sensibilizzare Può scuotere Il comune Che chiaramente Deve fare i passi Nei tempi più rapidi Possibili Per far sì Che il Napoli Continui a giocare A fuori grotta Come tutti vogliamo Anche il centro sportivo Secondo me Si dovrebbe fare a Napoli Il centro sportivo È un problema Di minore importanza Secondo me Certo Se tu hai Uno straordinario Centro sportivo Meglio per tutti Però insomma Lì A Castelvolturno Si allenano abbastanza bene Si allenano bene Insomma I campi ci sono Oramai Anche gli spogliatori Sono buoni Per arrivarci Non è difficile Insomma Ci sono una serie Di cose Che rendono Tutto sommato Discreta La situazione Del Napoli Per quanto riguarda Il campo di allenamento E per lo stadio Che stiamo messi male Quindi assolutamente Una priorità Cioè il sindaco Non deve mettersi di traverso Perché la squadra Napoli è una squadra Seguita in tutto il mondo Io non credo che Non credo che abbia nessun interesse A mettersi di traverso Io penso che ci siano Delle difficoltà Oggettive E penso che forse L'unica cosa Che dobbiamo dire È che Con tutte le Situazioni Molto serie Che ci sono a Napoli Perché poi le altre Non è che non sono serie E l'unica cosa che conta È il San Paolo Ma bisogna cercare Di capire Che il San Paolo Non è il San Paolo Di De Laurentiis Del Napoli Ma è un bene Condiviso Da decine e decine Di migliaia di persone Di appassionati Quindi ha un valore Oltre che affettivo Ha anche proprio Un valore anche sociale Importante Di aggregazione È lo sport Che trascina Tanto in città Insomma Con tutto il rispetto Per le altre Iniziative Legate Ad altre discipline Quando arriva La Coppa America E quando arriva Il tennis Piuttosto che il ciclismo Che io amo Profondamente come sport Però bisogna Secondo me Fare un distinguo Che l'immagine Della città Per quanto riguarda Lo sport Non possono essere I due giorni Del ciclismo I due giorni Della Coppa America O della Coppa Davis Sono delle Toccate fuga Belle Che ci vogliono Che vogliamo Ma l'immagine Della città Di Napoli È in primis Il calcio E poi molto bene Se la squadra Di basket rinasce Come sembra Stia rinascendo Se le squadre Di pallannuoto Migliorano ancora La loro forza Questi sono gli sport Di tradizione Di cultura Che vanno Considerati Da tutti E vanno sostenuti Dall'amministrazione Comunale In maniera forte Questo credo Che si debbano Capire La vetrina Internazionale È importante Ma molte volte Non può essere Così redditizia Da tutti i punti di vista Come invece Quello che è la continuità Perché poi lo sport Per me È quello che Vivi 365 giorni In una città E il 365 giorni A Napoli Sappiamo di cosa si vive Del Napoli Certo Io poi condivido Quest'analisi Anche perché Insomma Unisce tutta la campagna È un fenomeno Diciamo di aggregazione Certo Ma possiamo allargare Abbiamo iniziato Una telefonata Questa trasmissione Giustamente Dicendo che il Napoli Ha tifosi in tutto il mondo Quindi d'accordo Che c'è La televisione D'accordo Che c'è internet Per vedere il Napoli E seguire il Napoli In tutto il mondo Ma a Napoli Abbiamo il Napoli Che deve giocare a Napoli Mi sembra di dire È una cosa banale Ma credo che bisogna Però ribadirla con forza Evitiamo anomalie Evitiamo anomalie Che non avrebbero Nulla di produttivo Il Napoli Deve giocare La partita A Napoli A Napoli A Napoli E poi il sindaco Comunque deve Invegnarsi a risolvere Anche gli altri problemi Perché è un vissuto A Napoli E quindi praticamente È importante Che il sindaco Deve risolvere Anche gli altri problemi Perché una città Come Napoli Merita che tutte le problematiche Vengano risolte In maniera di intelligenza Senza fare In maniera intelligente Senza fare Isola Besonale Creando situazioni Di turismo Creando situazioni Di trasporto C'è una realtà Meridionale Tra le più importanti D'Italia Ora non diamo Troppa importanza Alla mia trasmissione Che è una trasmissione Che cerca di risolvere Risolvere Dico così Il problema Del mediano E del terzino Ora su Napoli Non andiamo L'ultima cosa Paolo Io sono Praticamente Per vendere cavani E comprare giocatori Non top player Ma i vari Candreva I vari Alvirol Secondo me Si può venire Un scuretto Anche con questi Giocatori qua Che farei tutta La squadra Vendendo cavani Ti ringrazio Complimenti Per la trasmissione Ti ringrazio molto Non è che ti dico Complimenti Perché io la penso Come te Però ti dico Che è un pensiero Che se faccio È un pensiero Che non è Che mentre lo faccio Mi sento Dispiaciuto Nel farlo Perché penso All'addio di cavani Nel senso che cavani Se può restare Benissimo Però se cavani Non resta Con l'entusiasmo Giusto Prendiamo i soldi E facciamo la grande squadra Questo lo dico stasera Per la prima volta Con questo tipo Di decisione Cavani Quando lo sento Parlare Mi piacerebbe Che Incominciasse Quanto meno Ad avvicinare Un piccolo passaggio Dei suoi discorsi A quello che dice Amsic Ecco Non voglio polemizzare Con cavani Figuriamoci Se un Ragazzo Che 104 volte Negli ultimi tre anni Ci ha fatto gioire Noi possiamo dire Qualche cosa Contro questo ragazzo Che tra l'altro È un ottimo ragazzo Quindi figuriamoci Gli vogliamo un bene Enorme Perché ci ha fatto gioire 104 volte in tre anni Immaginatevi Come tifosi Che tipo di rapporto E di affetto Abbiamo tutti quanti Per Cavani Però Un poco poco Di soddisfazioni Le vorremmo Sto parlando proprio Da tifoso Questo è il sentimento Di tutti i tifosi del Nave Un poco poco Di soddisfazioni Le vorremmo anche Noi tifosi Che poi Non siamo i tifosi Di normali Siamo tifosi Che diamo tanto E in questo caso Mi permetto di dire Che Cavani Non solo dai tifosi Ha avuto tanto Ma ha avuto tanto Anche dal Napoli Ha avuto tanto Anche da Mazzarri Ha avuto tanto Anche dai compagni Che si sono messi Completamente al suo servizio E ha avuto tanti Ha meritato tutto Perché poi Un professionista esemplare Un giocatore straordinario Detto questo Concludo Ma proprio con affetto A Cavani Io quando mi arrabbio Mi arrabbio con i procuratori Con Cavani non mi arrabbio Per una mezza dichiarazione Che più somiglia A quelle che fa Amsic Ci farebbe piacere Solo questo Edinson Una mezza dichiarazione Che incomincia a somigliare Un po' a quelle che fa Amsic Che ci fanno piacere Che non significa Che faremo una statua Ad Amsic Però siamo contenti Quando leggiamo Queste belle parole Di Marek Che dice Convenites Faremo il salto di qualità Sono contento Di essere allenato da lui Il Napoli È la squadra Nella quale voglio stare Voglio vincere qualche cosa E che dia Facciamola qualche dichiarazione Un po' più bella Oppure Non facciamola Questa dichiarazione più bella E decidiamo Che comunque La nostra volontà È quella Di andare via E il Napoli Poi si regolerà di conseguenza Una decisione Per favore In tempi brevi Questo soltanto Vediamo chi c'è in linea Pronto o buonasera Buonasera Ciao Buonasera Il tuo nome? Luigi Ciao Luigi da Piazza Gallo III Ciao Buonasera Luigi No vabbè Il nome è Luigi da Piazza Gallo III Sì Senti Dopo questo discorso Che hai fatto Dopo il discorso Che hai fatto Che è tutto giusto Ci spiazzi un po' Anche a noi Che ti seguiamo Perché È giusto Tutto giusto Quello che dici No ma perché Scusa Non le dichiarazioni di Cavani Le senti E quelle di Amsic Le senti no? E come no? E quindi non è che sto facendo Non è che a me è antipatico Cavani E simpatico Amsic Per me mi sono simpatici Tutti e due Io sono proprio d'accordo con te Vabbè comunque Che dobbiamo fare? Per il momento la situazione è questa Speriamo che Io guarda Spero che cambi Uno Cambia in positivo Cavani resta a Napoli Due Cambia in negativo Cavani dice vado via da Napoli In tempi brevi Solo questo Io Io dico solo una cosa Cavani Se resta È un grandissimo piacere Se non resta Io ho fiducia nel Presidente Non ci ammazziamo Sicuro non ci ammazziamo Ci restiamo male Aspettiamo Aspettiamo con ansia Poi oddio Voglio anche fare una proiezione Così giusto per parlare Il giorno che va via Cavani Io vorrei che Noi possiamo Vorrei Che De Laurenti Facesse in modo Che noi capiamo Che Cavani sta per andare via Tre giorni prima Mi spiego meglio Sì Vogliamo sapere Il 24 giugno Che il Napoli ha preso GECO Sarà un giorno felice Ma sarà anche L'anticamera della notizia Che il 27 va via Cavani Però vorrei che già Abbiamo preso GECO Oppure insieme Vai facciamo insieme Lo stesso giorno Non vorrei che Il 25 va via Cavani E poi facciamo Un lungo percorso Di ansia E di preoccupazione Ma chi arriva Per sostituirlo Vuoi vedere Che non prende uno All'altezza Questo non ce lo meritiamo Poi E qui mi rivolgo A De Laurentiis Questo poi non ce lo meritiamo Noi tifosi Non è che non ce lo meritano Lui Questo poi non ce lo meritiamo Noi tifosi Quindi almeno Al dispiacere Dell'eventuale partenza Di Cavani Accompagniamo contestualmente Il sapere Come dicevi tu Che il Napoli Comunque ha preso Un attaccante forte E con quei soldi Ha fatto una squadra forte Ma in tempi rapidi Io Io dico solo questo Se Zecco deve entrare Nel discorso Di Cavani Al Chelsea Non sono d'accordo Non sono due discorsi diversi Ovviamente Perché per me Zecco Torres Non sono No no Sono discorsi diversi Chiaramente Perché poi Zecco gioca con Manchester City Non sono Quei giocatori Su Immobile Quando è arrivato Quando è arrivato Cavani Nessuno di noi Nessuno di noi si aspettava Che Cavani Segnasse 104 gol In tre anni Si arriva Immobile Che poi un ragazzo Napoletano Ne segna Quasi lo stesso numero Saremo tutti felicissimi A volte le carriere Dei calciatori Cambiano in un lampo Quando ci sono le potenzialità Può darsi che improvvisamente Sboccia in tutta la sua forza Il talento di un calciatore Perché quello di Cavani Poi era abbastanza visibile Già Però era Tutto sommato Da questioni di posizioni Tattiche Di ruolo Lui stesso Di consapevolezza totale Dei suoi mezzi Era comunque Per certi versi Ancora represso Il suo talento Perché poi segnava Dei gol belli Però erano come numero Non erano Assolutamente Significativi Come potenziale Straordinario Bomber Quale è diventato Invece Nei tre anni napoletani Quindi può succedere Anche ad altri Questo Io uno che già l'ha fatto Tipo Geco Tipo Higuain Tipo Gomez Uno che già l'ha fatto A segnare più di 20 golli In carriera Lo prenderei Per sostituire uno forte Che li fa come Cavani Per avere almeno Una garanzia E poi ne prenderei uno Che potenzialmente Ne può fare di meno Però poi Non è detto Che non ne faccia di più E lì poi Scambiano le gerarchie Questo per carità Vediamo chi c'è in linea Pronto? Buonasera Ciao Sono Mario D'Aportici Ciao Buonasera a te Ciao Paolo Ti ascoltavo in questo momento Mi stavi dicendo che Ricordati Ti faccio Ian Rush Ne faceva tanto a Liverpool No? Ma ne ha fatti pochissimi in Italia No con gli esempi Con gli esempi Ne facciamo Mille positivi Mille negativi No perché Un conto è giocare in Inghilterra Con tutto il ripeto Sì va bene Però non esiste Una regoletta Così precisa Sì Yarrash In Italia È stato un caso Abbastanza limite Di difficoltà La Juve Di straordinario numero Di gol A Liverpool E' anche Una vicenda Di tanti anni fa Quando effettivamente C'erano grandi differenze Fra il calcio Inglese E il calcio italiano Ora io vedo Che più o meno Il modo di giocare Dal punto di vista Tattico C'è stata Un'evoluzione Un po' dovunque È più simile Ripeto Fra i grandi campionati La differenza Non è tanta Sì può esserci Qualche gol in più Qualche gol in meno Però insomma Io dico Non penso che Che in questo momento Se per esempio Per dire no Balotelli faceva Grande fatica A segnare in Inghilterra E venuto in Italia Ha ricominciato a segnare Ma non penso che Che per esempio Van Persi Se dovesse venire in Italia Qualcuno possa pensare Che non segni lo stesso No 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 Sì Ma io In modo Cioè Dicevo Il fatto che Cavani ne ha fatti Cento e quattro In tre anni Questi qua È un po' più È difficile Il campionato italiano È difficile Io guarda Ma cento e quattro In tre anni Se va via Cavani Guarda io ti dico una cosa Non solo se va Allora ti dico Mi voglio sbilanciare Se va via Cavani Non troviamo uno Che ne fa cento e quattro In tre anni Ma io forse Voglio andare un po' oltre Anche se resta Cavani Può darsi che lo stesso Cavani Non ne fa cento e quattro Nei prossimi tre No ma Sì sì No no Sono d'accordo con te Su questo Però Io Mò parlando L'altra volta Ne parlamo Pure l'altra volta Io dissi Il fatto di Cavani Allora Se ci danno i 63 milioni Te lo puoi andare fuori Ma lo accompagno io Dove vuole andare Non c'è stato problema Però Io devo dirti Guarda A me mi è antipatico Però Io farei ritornare Ibrahimovic Stiamo al di fuori Con loro Con il suo Quello che piglia lui all'anno Ma Ibrahimovic Ci fa pigliare Antipatico Non me ne frega nulla Perché A me mi è antipatico Però se si mette la maglia del Napoli Se si mette la maglia del Napoli E segna Mi può essere antipatico In tutti i momenti Della sua vita Tranne che quando segna Con la maglia del Napoli Quindi Mi verrebbe la simpatia In quel momento Però Secondo me Dico quasi impossibile Perché non si può capire Il mercato Il colpo Straordinario Da un momento all'altro Possono crearsi Dei presupposti particolari Però io Mi sento di escluderlo Concretamente Seriamente parlando Non succederà Non succederà No lo so Lo so Ma è l'unico Che potrebbe sostituire Facilmente Degnamente Comunque Sì è l'unico Insomma Quello famoso discorso Di più di 20 Sinceramente In Italia Oramai più di 20 Li segnano solo Cavani E di Natale E fin quando c'era in Italia Ibraimovic Il quarto Non lo troviamo Per questo Poi per il resto Guarda Biabiani Tutta questa gente qua Va bene Per quanto riguarda Il gruppo E ampliare la rosa Però Cioè la mela Sinceramente Preferisco la mela Biabiani Eh no va bene Questo Questo è fuori discussione Siamo a un buon giocatore Che può dare Una grossa mano Biabiani Qui siamo a un talento A un talento assoluto Gente che può dare Una grossa mano Sono d'accordo Però la gente che ti fa Veramente fare Il salto di categoria Cioè il salto in più Non di categoria Il salto in più Cioè è difficile Perciò meglio cerci Noi giustamente La mela è arrivato Io lo vedevo Già quando giocava Nel River Plate Anche se quell'anno Retrocesse Il River Plate Lui era giovanissimo Si vide che aveva Un talento superiore Proprio nelle partite Che determinarono La clamorosa retrocessione Una squadra importantissima Blasonata Nel campionato argentino Di serie B Del River Plate Giocò Lui alla fine A momenti Lo salvava solo Lui Una squadra Era diventata un disastro Si capì il talento Di questo ragazzo Detto questo No no Ma proprio per questo Detto questo Ci sarà un la mela Che non è ancora la mela E che possiamo cercare Di prendere Perché ci siamo giocati Un jolly Con Vargas Probabilmente Sicuramente Dico io Ma diciamo ancora Probabilmente Ce lo siamo giocati male No vabbè Ma là l'abbiamo bruciato A priori Secondo me Vargas Sì Ho sentito le dichiarazioni Cioè L'abbiamo bruciato Appena è venuto Perché ricordati Che Mazzari Disse chi è questo Quindi Sì vabbè Questo è vero Però insomma Poi Quella forse Poteva non dirla Mazzari Però onestamente Poi Se hai talento Ti mangi L'allenatore Ti mangi I giornalisti Ti mangi I tifusi Sì sì Sono d'accordo Sono d'accordo Poi Io mi dicevo Un mio vecchio maestro Allenatore Che ha avuto a Portici Italo Romagnoli Mi diceva sempre Forse tu ti ricordi Il nome Mi diceva sempre Bisogna Quando bisogna giocare A Portici Quando devo vedere Il fumo che esce Da sotto Se ce l'hai Ce l'hai Il calciatore Non ha bisogno Di raccomandazioni Perché quando entri in campo E fa le cose buone Poi dopo E ha fatte le cose buone Sì sì Infatti Grazie Vabbè Lascio gli altri Commenti Comunque Ti ringrazio Dai ci sentiamo Alla prossima Mi fa piacere E sempre Forza Napoli Ciao grazie Mi farà piacere Abbiamo credo Tempo proprio Per l'ultima telefonata Ripeto quello Che ho detto L'altra volta Perché mi vedete Qui sempre Con la lavagnetta Davanti Se arriva lo spunto Da una telefonata O si arriva O sicuramente Se arriva Qualche nuovo acquisto Che ci porta A poter fare Delle proiezioni Di carattere tattico Di collocazione Sul campo E allora andiamo Sicuramente Con la lavagnetta Per parlare Per aggiornare le cose Poi sicuramente Andremo All'ultimo Dello spettatore Che è intervenuto Se può controllare La sua cornetta Perché per il momento Siamo un attimo bloccati Con le telefonate Vorrei accogliere l'ultima Quindi se puoi guardare Proprio l'ultimo amico Che ha chiamato Se puoi guardare Se è tutto a posto Col tuo telefono Se hai riposto bene La cornetta Vediamo che succede Comunque Per quanto riguarda Il discorso tattico Aspettiamo acquisti Aspettiamo eventuali input Da parte degli amici Da casa Con telefonate E chiaramente Aspettiamo anche Che ci sia la conferenza Di Benitez Perché sicuramente Dopo la conferenza Del 21 Quindi esattamente Fra due settimane Avremo questa conferenza Oggi è venerdì Esattamente fra due venerdì Avremo questa conferenza In tarda mattinata Credo Quindi poi Ne manderemo in onda Non poco Manderemo in onda Quasi tutto Quello che dirà Benitez Perché poi non tutti La potranno seguire In diretta Per chi la manderà in diretta Noi ovviamente La sera la manderemo in onda Quasi tutta Se non tutta E poi dopo una mezz'ora Di conferenza Ci concentreremo Sulle dichiarazioni Più importanti E su una lavagnetta Tattica Però insomma Sono andato Un po' troppo avanti Concentriamoci ora Settimana per settimana Con tutte le nostre Trasmissioni Accogliamo l'ultima Telefonata in diretta Pronto? Buonasera Buonasera Paolo Sono Vincenzo Danavoli Senti Dovevo fare sempre Come mettere Per la taci Mi volevo arricciare Al discorso Che hai detto Sul fatto della mela Che magari ora Non è la mela Ad esempio Abbiamo visto un giocatore Come è Sabonano Che ha preso il Milan Guarda C'hai tre miei momenti Proprio che mi sembra cacà E' bravo E' bravo E' bravissimo Ci sono altri due giocatori Secondo me sono bravissimi Che magari puoi mettere Le mani Anche non portarli subito A Napoli Ma magari girare A qualche squadra In presto Sono Silicardi Secondo me E Berardi Sono due buonissimi giocatori Sì di Berardi Si è anche parlato Sì Secondo me Silicardi a Rivorno E Berardi del Sassolo Due giocatori Che hanno vinto I loro campionati Due mancini Tutti e due bravi Sì Infatti il Milan Secondo me Già ha fatto un affare Con il Scharabi Che lo prese Così a pochissimo pezzo Secondo me Sabonare è un altro Grandissimo acquistore Secondo me Il Napoli su questo Dovrebbe girare meglio E essere più bravo Deve recuperare Un po' di posizioni Perché ci sono dei club Che hanno dei rapporti Con queste società Che fanno venire fuori Tanti giovani Tipo l'Empoli E ci sono dei club Che hanno dei rapporti Molto Più stretti Diciamo Sì ma con molti anni Di vantaggio sul Napoli Il Napoli deve recuperare Un po' su questo Perché è una società Giovane comunque Può farlo però Perché ha le risorse Per farlo Paolo L'ultima cosa Secondo te Che ne pensi Di come Il Catania Ti ringrazio Ti rispondo Buonasera Giocatore che a me piace Moltissimo Io l'avrei preso A gennaio scorso Per me Ora Con il modulo Che adotterà Benitez Dovrebbe essere Mi dicono che forse Non lo sia Per me dovrebbe essere Un obiettivo molto serio Del Napoli Perché un giocatore Adattissimo Con il destro Partendo da sinistra Possiamo avere Abbiamo anche insignia In quel ruolo Però ce ne vogliono Due forti In quel ruolo A me piacerebbe molto Che poi Gomez può fare Anche quello di destra E anche il trequartista Per carità Dietro la prima punta Quindi un giocatore Potrebbe giocare In tutti e tre ruoli Di dietro A me piacerebbe molto Chiudiamo così Questa puntata La replica è poco dopo le 23 Lunedì ci ritroviamo Con una nuova puntata Di A tutto campo Sempre su Canale 8 Un saluto da parte Di Paolo Del Genio Buon proseguimento Con le nostre trasmissioni Grazie a tutti